Azione! Questa è un laboratorio che parla di mappe Il primo esercizio è disegnare il percorso La casa vostra va qua Pronti? Iniziamo? Poi da lì Vai, vai, vai No, adesso è la scuola Non so, la scuola No aspetis Oh. La camera. La mia ci vuole il capo, eh? Ehi, va bene. Questa è casa di Federica, col carne col cane, gialla. Beh, è di via, c'è la costata, c'è la prima notatoria, la seconda, la terza, la tratta, i carabinieri, i cinema, i buffetti. E' una luce molto forte. Vabbè, poi ci sono anche, qua c'è il cambio del giro di santo. E ci sono i bambini che fa i nostri nascimenti che ci distrazione. Mamma Isa. Qui è tutta buona quella più avanti. Ci sono i scepele d'olari. Poi c'è la rusticceria, la macelleria, fianco. Io vado dritta attraverso l'uomo fa. Qui c'è una strana porta a chi alberi. Ma strana cosa c'è? Cosa sono questi? Sono i carciugli, c'è la scena, c'è i dettori magiche, poi c'è la rotatoria, qui è attaccato c'è l'opulista, poi c'è una curva. E questo cos'è? La stella per andare lì su. Poi c'è quello vecchio. Ok. E poi, vabbè, esco di casa, c'è una piccola discesa, qua c'è il tartafone. E questo cos'è? Questa è la casa, qua c'è la sua elementa. Casa mia con la celeste, c'è il bifo, qua c'è Santa Teresa e qua si va per Palau. Qua c'è il ristorante. Il ristorante è sempre quello famoso? Quello chiuso. Ah, sì. Perché è lì più avanti. E vabbè, arrivi alla prima rotatoria, dove c'è Zachè, cioè il primo che era la rotatoria per Zachè, non per Palau. Ok. Sì. Qua se continui c'è un balzo all'istia. Ok. Poi bisogna andare, ci bisogna andare dritto. Poi si incontra un'altra rotonda che porta a Porto Raffaele e a Palau. C'è il bambino. C'è il bambino? Sì. Vai. Che ci posso dire anche in casa? Sì. 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 Vai, adesso cambio! Sì, sì, sì. Grazie 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 Via Grazie 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 Ciao Grazie 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 via l'octubre 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 più Grazie a tutti 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 Grazie a tutti